Puri 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 Puu Puri 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 P Trovo più l'inquilino, e di noi che cosa sarà? E quei che navigano in internet, passano la vita a cercare tetto. Alla mattina, quando le vien su, cerchano il mouse e se lo trovano in del culi, 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 tu fa il tacchino. Frittrappi fraffa il purgante, buttami giù l'inquilino. E di noi che cosa sarà? E quei che gangano il cellulare, che parlano sempre con l'auricolare. Alla mattina, quando le vien su, il giacense e le picchinin del culi, 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 tu fa il tacchino. Qua, 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 lochetta, voglio affittarmi il quino. E di noi che cosa sarà? E quei che fa la televisione, che rimperlissen la popolazione. Alla mattina, quando le vien su, ciappen la moviola e se la picchinin del culi, 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 tu fa il tacchino. Ridammi indietro il pulsante, ma la via cia, pinguinino. E di noi che cosa sarà? E di noi che cosa sarà?